musica 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 dove cazzo siete? lei sarà l'ultimo sicuro? Scudo Scudo c'hai? Ma ce n'è uno Un altro Dai a posto ma a posto va Ma se c'è un altro ancora aspetta Dobbiamo uccidere anche l'ultimo Eccolo Omo scudo Ma che cazzo gli ho fatto stronzo L'ho ucciso alla grande Ma gli occhi rossi come vuoi Allora supporto questa appena gli MS Line lo prendi tu Io prendo la torretta Ok prendi la torretta Io prendo Il Trinity Line dove cazzo è? Eh io prendo line qui No lo chiamo line Eh non ce la fai lui Eh non ce la faccio si sto tornando dentro io Dai sto correndo pure io Ok ci siamo Round 22 attenzione Siamo già round 22 ragazzi Speriamo bene Adesso arriva la parte bella Allora io uso il razzo Trinity Bravo A posto vai ci siamo Prendi la stellina Torna dentro va E ovviamente chi la prende E la prendo io Mi sembra ovvio Che lato che sei Ci sono munizioni lì in fondo Le vado a prendere Le vado a prendere le munizioni Vado a prenderle Che sennò rimaniamo un senso Ok Sto scappando Sto scappando C'erano tutti dietro Non hai capito Mi vogliono troppo bene Tranquillo Tranquillo Sto arrivando Sto arrivando Torna dentro Eh lo so Torna dentro Cosa c'è C'è il chainsaw Mira stabile Mira stabile Non servono a un cazzo Cambia le vedi cosa troviamo Ci serve il predatore Cioè mi serve il predatore E a te soprattutto Beh per ma chi se ne frega Cazzo no I cani no Tre colpi di MTS Cioè non ci credo Io non ce l'ho basso Oh cazzo mi stanno uccidendo No no posso posso No sono morto E finita Ai cazzo Eh mica mi stavano ammazzando Sti cani di merda Cioè cambia fucile Cambia fucile Che prendiamo Munizioni Oh emulizioni no Già Che dici lo prendi M27 No No non prendere E a livello 1 Parti a livello 1 Quindi diventa una cagata Eh lo so Lo so Liscio Lo devo pagare Per entrare Eh boh Devi darmi un'arma Stronzo Va 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 Minchia Tre uomini Scudo Attenzione Allora ce l'hai ancora il tuo Il tuo compagno di Per salvarti Io ce l'ho Io ce l'ho Perfetto Perfetto Oh scudo 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 A posto Un altro Un altro A posto Munizione Vai Prenditi la stella Andre Prenditi la stella Non penso Vai 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 Ma guarda Sei stronzo Che mi ha coltello No Vai 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 fuori Vai fuori vabbè al prossimo, al prossimo ok ci siamo dai dai round 23 ragazzi dai dai, ce la stiamo cavando però siamo tranquilli, speriamo in fretta, stai dentro però stai dentro, non stare fuori ma che dentro lui? e poi arrivano i cani, arrivano i cani da dove però? eh ne ho appena ucciso uno Andre una stella Andre vai a prendere la stella eh non ce la faccio però no, vabbè troppi ho anticipato? vado io vado io andiamo insieme, andiamo insieme venti ladro, venti ladro vai 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 oh cazzo mi stavano uccidendo cazzo non hai capito bam fuori dai coglioni i cani veramente sono fortissimi ah i domini scudo ti bloccano e con due colpi si atterra i cani ti assalgono in 40 e mori subito eh cosa ti devo dire eh cosa ti devo dire siamo a 25 round di fila speriamo bene ancora falli entrare falli entrare, falli entrare aspetta, aspetta aspettali ok ok vai bam vai tu vai tu ora ammazzati tu sei proprio un nabbo col fucile a pompa vai dentro vai, non ci penso io vai tu andrea vai tu vai 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 tu andrea vai tu una strage sulle scale tutti cadono via le scale guardi oscuro via la cosa fallo arrivare fallo arrivare ok double intanto si buttano gli uomini scudo da qui senza motivo ok vai pure vai pure no non lo so non so se te ne sei reso il conto non so se te ne sei reso il conto ogni tanto salgono so fa questa cazzo di cosa eh lo so è quello che dicevo come fai a beccare prendi predatore lu dov'è dov'è? prendi l'altra tu prendi l'altra ma la tua non ce l'hai? eh si ce l'hai? si si ce l'ho vai vabbè servirebbe reflex ci servirebbe reflex eh prova a cambiare velocità ce l'avevi? si ce l'ho ok allora prendiamo le munizioni merda di buono questo prendi la torreta robot va eh io ce l'ho io ce l'ho e adesso la prendo di nuovo qui ce l'ho due tipo obrono allora un'altra munizia prendi qua prendi a me non servono ti servono? no 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 a me non servono a me non servono vai veloce volo accendiamo vai 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 finchiero me ne hai fatto trovare uno davanti eh perché l'ho girato oh oh di a stellina vai qui vai dentro vai dentro opposto ma c'è il punto che ci segue eh ne abbiamo due scusa stai la pena pena cosa è successo dai 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 ti stai bacano anche tu ti baghi tipo l'altra volta al lato tra tutti i loro e stavo volando dai 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 al mio momento l'ho il papai grande siamo c'è la mamma cesimo cesimo sti gatti per te ci metti no no e io ci metto al prossimo chiamo miss all'anima chiamano a chi non va a roma dai no ti amore lo chiamo vai tranquillo ti amore tutto il rossino ok 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 vado io poi vai tu vai 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 tanto la torreta copre fuori quindi ascolta spreco dieci colpi ok dieci colpi ti dico io quando venire ti dico io quando venire a uccidere dieci colpi con entrambi i fucili faccio minchia ok vai tu vai tu vai tu ultimi due sfigati mi ha lasciato non è vero è un cazzo vai che è pieno ammazzati tutti non uscire fai lì entrare andrea fai lì entrare tranquillo mi sforzo questo amore è morto pega stella pega stella vai faccio io ok perfetto 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 dai ce la facciamo una corsettina come al solito ragazzi ve la consiglio là se la facciamo come al solito ragazzi ve la consiglia pia Grazie a tutti